Fuori tutto da vita segreta raccolta di pensierini di Paolo Luporini. 23 marzo 2023. Fuori tutto. Oggi regalo. Tempo. Tempo che non ho. Sogni per voi. Sogni che non ho. Desideri. Voglie che non ho. Me ne sto quieto nel letto a macerare. Oggi metto. Inetto. Inerte. Bloccato. Imperfetto. Vivevo. Sopravvivo. Respiro. Scrivo. Quindi sono. Non lo so. Sillogismo falso. Inaffidabile. Come un buco in una scarpa. Grazie.